Io ho lasciato un fogliente, se qualcuno non vi piace il nostro evento, chi vuole venire a prossimo ai nostri spettacoli di eventi e lasciare il suo e-mail, se possibile. Lì a poco la smontra, l'Austria si può spittare. Tu cerchi la casa in cui io sono nata, oppure in cui io morirò. Io setto sinestre sulla facciata, sul portone d'ingresso, sporge un enorme pioppo bianco. Io sono una stessima e un ospitario, sono la minore di Marina. Lì da qualche parte si sentono i passi di nostro padre, filologo, scienziato, professore all'Università di Mosca, fondatore al Museo Puccini. Nostra madre ci ha riempiti di musica, ci ha colmati come un olio viola. Lecce e riempiti di musica come di sangue, il sangue della seconda nascita. Aprivamo le nostre vene per provare ad apverare i nostri figli con il sangue della nostra valentonia. Dopo una madre così, non mi restava che divenire poeta. Anche se provava ad indovinare la natura delle forze che si dibattevano in Marina, violando la tranquilla potabilità della vita familiare. I spiega, i morti, i miei notici sticchi. Astros перiegi i lacrimi studi di magia, dove i chi ne roba e non li muerano. I miei specchi, come un uccisino un ucciso. Naglare la chiamata che si chiede. aveva letto per i suoi 18 anni sembrerebbe in meno simile, in quantità e varietà, Puschi l'erono con i suoi costi. L'amore del primo gioco della vita, io mi sposerò solo con quello? Che tra tutte le pietre sulla spiaggia? Grazie. Qual è la mia preferita? Marina, proprio con il fatto che sai, gli innamorati si incretinuiscono. Questa bella mezza delle passioni ci scotta ancora oggi. Il tuo nome è un bacio dato alla neve, un sorso di fonte, gelato, turchino, col tuo nome il sonno è profondo. Grazie. Pazzesco Pazzesco Potremmo Pazzesco Potremmo e Come si e poi E non solo Quello il nome? Cosa mariana? Il nome è Rughosi Ho bisogno che qualcuno abbia fiducia in me. Qualcuno dimentica. Eppure lei è una brava persona, un biondo. Una lettera per lei. Difficile a credere. Lui è vivo. Riuscito a sfuggire dalla Russia. Vivrà e studierà a Prada. Ale, Ale prepariamoci! Come spostando pietre, gemme a ogni cittura. Riconosco l'amore dal dolore lungo tutto il corpo. Riconosco l'amore dal pianto delle belle lungo tutto il corpo. Svitaiva non sapeva cosa fare. Lei non voleva tornare nella Russia Sovietica, ma rimanere in giro non c'era il motivo. Presente in mente oscuro la proponitavano. Ricitavano di pubblicare i suoi libri. La situazione per gli emigranti diventava sempre più difficile. Il mondo arrivò alla guerra. Nel giugno 1939, Svitaiva e il figlio tornarono in Russia. Quello che è successo alla famiglia di Marina Svitaiva in Unione Sovietica è ben noto. All'associazione degli scrittori, perfino a stare in persona. Lei non si riesce a farci sentire da nessuno, in quanto lei è l'amore di un nemico pubblico. Il russo, la mia lingua madre. All'estero cercava un rifugio. Il francese lo sapeva benissimo. Il tedesco lo parlava fin da bambino. Ma non lo capivano da nessuna parte. E qui non si tratta di una comune incomprensione. Si tratta di solitudine. Lei lo provava da sempre. Indipendentemente dal posto e dal paese nel quale si trovava. La casa straniera è la Russia del mercato. In Russia c'è fame. Sfaceva. La rivoluzione e la guerra. All'estero di nuovo povertà. Immigrati russi induriti, come succede nella battaglia per la sopravvivenza. Di tutto questo a un solo Roma. Giungla umana. Non la comunità. Ma una parola semplice e spaventosa. Giungla. Non capita. Non accettata. Per cose. Per il suo essere differente da tutto e tutti. Per la sua intransigenza. Per la sua incapacità di sapersi adottare a qualunque cosa. per il suo diritto di rimanere se spessa. Per l'amore. Per l'amore. Per l'amore. Ecosia. Con questo, il poeta. Buongiorno. Buongiorno.